si stringi ora che sei qua, sei fermo si tanto questa è una pista facile tu segui il... come si chiama? segui dove vado io andiamo insieme comunque, non ci teniamo tanto distanti andiamo piano piano ok, andiamo grazie 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 il peso cerca di buttarlo sempre in avanti in modo che non... si però noi lo facciamo tutta a curve guarda, segui me come percorso non aver paura non aver paura vai lì grazie 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 Com'è andata? Giorgio butta il peso in avanti in avanti Ok guarda stai un po' troppo indietro per questo Guarda tu fai così ti butti in avanti Allora ti alzi e intanto fai andare gli sci Quando devi curvare ti abbassi ancora di più vedi Quando devi andare giù invece ti alzi Eh devi fare quando curvi ti abbassi Quando curvi ti abbassi Lasciali un po' andare se no fai curve troppo sete E' perché butti il peso lì indietro Vieni Dai che stai andando bene bravo Perché quando porti il peso lì indietro Gli sci si incrociano perché si alzano Quindi sempre avanti Poggia sugli stinchi diciamo va Allora 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 vai lì che ti riprendi ecco qua ti sto riprendendo sta andando proprio bene eh sciogliti un po' questa dobbiamo prendere visto che bello si ma poi questa è già una un po' impegnativa giù sono ancora più facili prima qui c'era l'ancora ti ricordi? se qui c'è